Ennesimo atto vandalico ad una struttura pubblica. I gnoti hanno distrutto materiali e strutture all'interno della palestra a servizio delle scuole in Viale Paolo dal Molin, provocando danni ingenti quanto inutili. A Mansuet si tratta dell'ennesimo atto vandalico registrato negli ultimi sei mesi. In questo periodo i vandali si sono accaniti più volte sugli edifici scolastici. Ora l'ultimo danneggiamento scoperto riguarda la palestra a servizio dell'istituto comprensivo e delle associazioni sportive. I gnoti hanno letteralmente sfondato una porta della struttura colpendola ripetutamente con qualcosa di simile ad una mazza.